Ciao sono Marisa, su richiesta di tanti amici del gruppo siti scolastici ecco un mini video tutorial che propone piccole modifiche e foglie di stile per personalizzare il leato grafico del proprio sito. A questo scopo utilizzerò come browser Google Chrome la finestra di ispezione di Google Chrome. Per attivare questa finestra è sufficiente cliccare col tasto destro su un elemento della pagina ad esempio sulla scritta comunicazioni e scegliere ispezione elemento. Nella parte bassa si apre una finestra sulla sinistra troviamo il codice html della pagina invece sulla destra troviamo il codice dei fogli di stile. Quindi io come prima esperienza vorrei proporre delle modifiche agli aspetti grafici della pagina in modo da creare degli effetti tridimensionali di ombreggiatura. A questo scopo seleziono il divid wrapper che è il contenitore il box diciamo più grande che troviamo all'interno della pagina web e che contiene poi tutti quanti gli altri tag html come le header top bar e il divid container. Quindi clicchiamo su divid wrapper e andiamo sulla parte destra dove troviamo appunto gli stili che caratterizzano questo elemento. Qui vediamo che wrapper ha un background, un margine e poi altre caratteristiche come la massima larghezza che può raggiungere, il padding cioè la distanza fra il bordo e il contenuto dell'elemento e la percentuale rispetto alla massima estensione che può raggiungere quell'elemento. In questo caso il 96%. Allora io quello che devo modificare è il margine. Qui vediamo la notazione sintetica di questo tag margin che è composta solo da due parametri. Il primo indica il margine superiore ed inferiore dell'elemento e il secondo invece il margine destro e sinistro. Nella notazione più estesa troviamo invece quattro parametri. Il primo è il margine superiore, poi destro e inferiore e quindi sinistro. Si va sempre in senso orario. Modifichiamo. Qui mettiamo ad esempio 30 pixel e il secondo lasciamo auto in modo che la pagina rimanga sempre centrata e vediamo che il margine superiore del contenuto della pagina si è staccato dal bordo superiore del browser. Adesso voglio applicare un effetto di ombreggiatura. A questo scopo faccio clic e inserisco il tag box shadow. Come inizi a digitare già compare il tag con la sintassi corretta. Clicco sopra, faccio invio per confermare e inserisco i parametri che configurano questo tag. Qui ci sono due parametri obbligatori. Il primo è lo spostamento orizzontale dell'ombra e il secondo lo spostamento verticale. Io metto 0 per tutti e due i parametri. Poi come terzo parametro metto la diffusione dell'ombra. Posso mettere in questo caso 20 pixel. Vedete che già l'effetto è soddisfacente. Potrei mettere anche 30 pixel se volessi un'ombra più evidente. Poi potrei aggiungere anche il colore dell'ombreggiatura. Ad esempio se non inserisco nessun colore di default viene preso il nero. Però posso mettere anche un altro colore per esempio cancelletto 78, 78, 78, 78 che è un grigetto. Vedete posso anche scegliere un altro colore o più chiaro o posso scegliere il colore che ritengo anche una sfumatura di un colore diverso. Però ecco tolgo proprio il colore dell'ombra perché mi piace molto l'effetto con l'ombreggiatura nera. Bene, adesso vorrei applicare l'effetto simile alle immagini che si trovano nel contenuto della pagina. Quindi clicco di destro su un'immagine, scelgo ispezione elemento, e qui sulla destra posso vedere le notazioni di stile che fanno riferimento all'immagine contenuta all'interno del div center content. Questo cancelletto davanti alla parola center content sta in indicare div, elemento div, selettore div. Infatti qui lo ritroviamo, se andiamo a cercare bene eccolo qua, center content, qui inizia il div center content e poi ecco qui ritroviamo l'immagine specifica. Andiamo a modificare il bordo. Qui compare un bordo tratteggiato che ha un colore verdino e sinceramente a me non piace e molti amici del gruppo mi hanno chiesto di come si può fare per eliminare il bordo oppure per modificarlo. Io lo eliminerei del tutto. Per eliminarlo basta fare clic, poi cance e invio. E vado applicare l'ombreggiatura utilizzando sempre il tag box shadow. Invio. Anche qui metto 0 e 0 per lo spostamento dell'ombra perché vorrei un'ombra più centrata come se la fonte di illuminazione provenisse dall'alto. Qui mettiamo invece 5 pixel perché vorrei un'ombreggiatura meno definita. Essendoci il padding di 2 pixel vedete qui c'è un piccolo spazio tra l'ombreggiatura e l'oggetto, il contenuto dell'immagine. Qui faccio invio perché mi piace abbastanza l'ombreggiatura. Se la voglio più chiara ad esempio un grigiatto posso mettere il colore. Così mi piace ancora di più. Se voglio aumentare il padding ad esempio mettere 10 vedete che aumenta questo passpartout che sta intorno all'immagine. Però 2 mi sembra perfetto. Mi piace molto così. Bene abbiamo applicato le modifiche di stile in anteprima. Se vogliamo poi rendere e siamo soddisfatti e vogliamo rendere definitive queste modifiche. Dobbiamo copiarci il foglio di stile modificato quindi andiamo su stile.css facciamo clic e si apre nella parte sinistra il foglio di stile completo. Se lo scorriamo possiamo vedere tutti quanti i tag. come potete notare qui è scritto stile.css con l'asterisco. Quando compare questo asterisco vuol dire che il foglio di stile è stato modificato. Faccio clic e poi scelgo ctrl a per selezionare tutto quindi ctrl c per copiare. Poi entro nella parte amministrativa del sito. Qui posso chiudere anche la finestra di ispezione che non mi serve più. Poi scelgo aspetto editor. Si apre già direttamente con il foglio di stile css all'interno di questa finestra. Comunque per selezionare il foglio di stile facciamo scorrere la pagina e andiamo in stili e poi facciamo clic su foglio di stile. Poi clic all'interno di questo spazio. Poi tasto destro seleziona tutto oppure direttamente facciamo ctrl a e poi ctrl v per incollare oppure di nuovo tasto destro. Quindi facciamo clic su aggiorna file aspettiamo che ecco sia compiuto il lavoro e andiamo a vedere il risultato F5. Aggiorniamo la pagina oppure facciamo clic su questa freccia che va in senza anti-orario e possiamo vedere le modifiche che abbiamo applicato allo stile. Come primo video tutorial mi fermo qua e ringrazio tutti per la per l'attenzione e la pazienza per quelli che vorranno visualizzare questo tutorial. Arrivederci